Esaminiamo adesso alcune applicazioni e conseguenze del teorema di Lagrange. Cominciamo con due corollari che discendono abbastanza direttamente dal teorema. Il primo corollario afferma che se una funzione è continua in un intervallo i e ha derivata nulla nei punti interni dell'intervallo, essa è costante in quell'intervallo. In simboli, se la funzione f di x è continua e inoltre f' di x uguale a 0 in ogni punto interno dell'intervallo i, f di x uguale a una costante k per ogni x appartenente ad i. Si osservi che nelle ipotesi di questo corollario non è specificato se l'intervallo i è chiuso, aperto, semi-chiuso, semi-aperto e in effetti non ha importanza, è il motivo per cui vi è indicato genericamente come intervallo i senza specificare le parentesi quadre o tonde. L'unica cosa che è importante è che almeno nei punti interni di questo intervallo, se l'intervallo i dovesse essere chiuso, la funzione deve essere derivabile, mentre la continuità deve essere presente in tutto l'intervallo, che sia chiuso o aperto. Il secondo corollario afferma che se due funzioni, f di x e g di x, continuano in un intervallo i, hanno derivate uguali nei punti interni dell'intervallo i, esse differiscono per una costante. In simboli abbiamo due funzioni continue in i, nei punti interni di i risulta f' di x uguale g' di x, allora la differenza f di x e meno g di x è una costante per qualsiasi valore di x appartenente all'intervallo. Anche in questo caso l'intervallo i può essere indifferentemente chiuso, aperto, semi-chiuso, semi-aperto, l'importante è che ci sia la continuità in tutto l'intervallo i e la derivabilità nei punti interni di i. La dimostrazione di questi corollari non è lunga, si indicano come corollari perché sono abbastanza direttamente ricavati dal teorema di Lagrange. Procediamo con la dimostrazione del primo. L'ipotesi è che ci sia la continuità in i e che si abbia la derivata nulla in tutti i punti interni. dobbiamo dimostrare che la funzione è a valore costante. E allora supponiamo che sia x segnato un punto dell'intervallo i. Supponiamo inoltre che sia f di x segnato uguale k, il valore della funzione in questo punto. Prendiamo un punto x sempre appartenente ad i ma distinto da x segnato. Per poter mettere nel corretto ordine questi due punti supponiamo che sia x segnato minore di x e quindi possiamo esaminare il comportamento della funzione nell'intervallo x segnato x. In questo intervallo, visto che si tratta di un sottoinsieme dell'insieme i, la funzione è certamente continua ed è derivabile nei suoi punti interni. Quindi in questo intervallo la funzione soddisfa alle ipotesi del teorema di Lagrange. A questo punto il teorema di Lagrange ci assicura direttamente l'esistenza di un punto c appartenente all'intervallo x segnato x aperto tale che risulti f' di c uguale al rapporto tra f di x segnato meno f di x ed x segnato meno x. Adesso però viene fuori una delle ipotesi del corollario e cioè che la funzione ha derivata nulla nei punti interni dell'intervallo i e quindi anche nel punto c. di conseguenza siamo sicuri che questa derivata è uguale a 0. Ma allora è uguale a 0 anche questo rapporto. Cioè risulta f di x segnato meno f di x fratto x segnato meno x uguale 0. D'altro canto abbiamo supposto che x segnato sia diverso da x, quindi il denominatore non crea problemi, è il numeratore che decide se questa frazione deve essere 0 oppure no. Di conseguenza abbiamo che f di x segnato meno f di x deve essere uguale a 0 e il che porta, spostando f di x al secondo membro, che f di x segnato sia uguale ad f di x. In sostanza stiamo dimostrando che anche f di x deve valere k, visto che ha lo stesso valore di f di x segnato. E poiché x è un qualsiasi punto dell'intervallo i, per tutti i punti di i la funzione vale k. E quindi la funzione è costante, che è la tesi del corollario. Veniamo adesso alla dimostrazione del secondo corollario. Se due funzioni f di x e g di x continuano nell'intervallo i hanno derivate uguali nei punti interni, allora queste due funzioni differiscono per una costante. Facendo la differenza f di x meno g di x, otteniamo sempre lo stesso valore per qualsiasi x appartenente ad i. Per dimostrare questo corollario, facciamo uso del corollario precedente. Infatti, nelle ipotesi previste dal corollario, abbiamo due funzioni f di x e g di x. Tutte e due continuano nell'intervallo i derivabili nei punti interni, ma hanno la stessa derivata. A questo punto definiamo la funzione h grande di x, data dalla differenza delle due funzioni, f di x meno g di x. Dal momento che f di x e g di x sono entrambe derivabili, anche la loro differenza lo è. Quindi esiste la derivata della funzione h, h' di x, e data dalla differenza delle due derivate. h' di x meno g' di x. D'altro canto, per ipotesi, noi abbiamo che per ogni x interno ad i si ha f' di x uguale g' di x, ipotesi prevista nel corollario. Di conseguenza, questa differenza fa 0. E allora abbiamo che la derivata della funzione h è nulla in tutti i punti interni di i. Cioè abbiamo a che fare con una funzione h che è continua in i, perché lo sono f di x e g di x, derivabile nei punti interni e con derivata nulla. Quindi la funzione h soddisfa esattamente alle ipotesi del primo corollario. se una funzione continua in intervallo i e ha derivata nulla nei punti interni, a s è costante in quell'intervallo. Quindi la tesi, date questa situazione, è che la funzione h è costante in i. h' di x uguale k per ogni x appartenente ad i. ma se h di x è uguale a k, questo significa che f di x meno g di x è uguale a k per ogni x appartenente ad i, che è esattamente la tesi che abbiamo scritto nel corollario. Dimostrati questi corollari, vediamo qualche esempio di applicazione. Per quanto riguarda il primo corollario, il fatto che se una funzione ha derivata nulla allora è costante, teniamo conto che si tratta di una situazione inversa rispetto a quella che già conoscevamo. Se una funzione è costante sappiamo già che ha derivata nulla. Con il primo corollario noi dimostriamo il viceversa. Se la derivata è nulla, la funzione è costante. Come esempio pratico di applicazione del primo corollario potremmo considerare la seguente funzione. f di x uguale arcoseno di x più arcoseno di x. Non è immediato sapere come si comporta questa funzione. Se calcoliamo la sua derivata, perché si tratta evidentemente di una funzione derivabile, le funzioni inverse delle funzioni goniometriche sono derivabili. E se calcoliamo la sua derivata ci accorgiamo subito di che natura è questa funzione. f primo di x è dato dalla derivata dell'arcoseno, e sappiamo che è dato dalla 1 su radice quadrata di 1 meno x al quadrato, più la derivata dell'arcocoseno, che è identica a quella dell'arcocoseno con il segno cambiato. Il che significa che questa derivata è identicamente nulla. Chiaramente stiamo parlando di una funzione che è continua nell'intervallo meno 1, 1, è derivabile nei suoi punti interni. Ovviamente all'estremità questa funzione non è derivabile perché non lo sono le funzioni arcoseno di x e arcoseno di x, quindi non possiamo procedere con questa differenza quando prendiamo i punti estremi. Ma in ogni caso le ipotesi del corollario richiedono la derivabilità nei punti interni. A questo punto abbiamo una funzione derivata nulla, il che significa che questa funzione è necessariamente costante, cioè arcoseno di x più arcoseno di x deve avere un valore costante per ogni x appartenente all'intervallo meno 1, 1. A questo punto è interessante sapere quanto vale questa costante. Beh, per calcolarla basta dare ad x un valore qualsiasi a nostra scelta, nell'intervallo meno 1, 1, e vedere quanto è il valore della funzione. Tanto è indifferente, visto che è costante la scelta del particolare valore di x. Scegliamo quello per cui è più semplice effettuare il calcolo. Prendiamo x uguale 0. Noi sappiamo che l'arcoseno di 0 vale 0 e l'arcoseno di 0 invece vale pi greco mezzi. Il coseno si annulla con angolo pari a pi greco mezzi più tutte le periodicità derivanti delle caratteristiche della funzione coseno. Per cui la somma di questi due valori fa pi greco mezzi e la costante k è uguale a pi greco mezzi. Quindi la somma della funzione arcoseno e della funzione arco coseno dà sempre pi greco mezzi. Queste stesse funzioni possono essere utilizzate per creare un esempio di applicazione del secondo corollario. Cioè consideriamo le due funzioni una cambiata di segno. Prendiamo la funzione f di x uguale arcoseno di x e la funzione g di x uguale arco coseno di x col segno meno davanti. Queste due funzioni sono entrambe continuo nell'intervallo meno 1, 1 e derivabili nell'intervallo aperto. Quindi continuo in meno 1, 1 e derivabili in meno 1, 1. La prima ha derivata pari, come abbiamo visto, a 1 sul radice di 1 meno x al quadrato e la seconda g primo di x ha derivata pari a quella dell'arco coseno con il segno meno davanti cioè meno, aperta parentesi, meno 1 sul radice di 1 meno x al quadrato. Di conseguenza viene fuori 1 sul radice di 1 meno x al quadrato. Cioè esattamente la stessa derivata della funzione f. Queste due funzioni quindi soddisfano le ipotesi del secondo corollario del teorema di Lagrange cioè sono due funzioni con la stessa derivata. Di conseguenza queste due funzioni differiscono per una costante. E per vedere quindi quant'è la differenza fra le due funzioni basta vedere quanto vale di nuovo f di 0 che fa 0 e g di 0 che è uguale a meno pi greco mezzi il che significa che la differenza f di x meno g di x è uguale a pi greco mezzi e questo per ogni x appartenente all'intervallo meno 1, 1. Il fatto che le due funzioni abbiano differenza costante quando hanno la stessa derivata ha delle conseguenze dal punto di vista grafico. Due funzioni che differiscono per una costante hanno grafici che hanno la stessa forma. Andiamo a visualizzare con GeaGebra i grafici delle funzioni arcoseno di x e arcoseno di x. Come vediamo in verde abbiamo la funzione arcoseno in rosso abbiamo la funzione arcoseno cambiata di segno. La funzione arcoseno appresenta valori soltanto positivi o al più nulli e quindi la sua opposta ha valori soltanto negativi. Il grafico in verde e il grafico in rosso come vediamo hanno esattamente la stessa forma l'uno appare come l'altro spostato, traslato di una quantità in verticale che è pari esattamente a pi greco mezzi viene circa 1,5 poco più che è esattamente la metà del pi greco. Queste due funzioni hanno la stessa derivata di conseguenza in ogni punto hanno tangenti parallele questo significa avere la stessa derivata e da qui discende una forma del grafico identica. Se andiamo a far calcolare e rappresentare in grafico le derivate di queste due funzioni f' di x ecco che otteniamo il grafico in blu e la derivata della f ora proviamo a fare la derivata della funzione g si sovrappone al grafico in blu il grafico in rosso in arancione della derivata della funzione g le due derivate sono identiche sappiamo che questa è la rappresentazione grafica della funzione 1 fratto radice di 1-x al quadrato possiamo costruire altri esempi simili abbastanza facilmente quando due funzioni differiscono per una costante hanno la stessa derivata e viceversa per esempio se prendiamo la funzione f di x uguale x al quadrato sappiamo che il suo grafico è una parabola con vertice nell'origine con cavità rivolta verso l'alto però prendiamo la funzione g di x uguale x al quadrato più 5 differiscono per una costante stiamo ovviamente lavorando all'inverso in questo caso se facciamo le derivate otteniamo f' di x uguale 2x e g' di x uguale 2x nel processo di derivazione infatti la costante scompare ora lavoriamo all'inverso f' di x e g' di x sono le due derivate di due funzioni come conseguenza il corollario ci dice che le due funzioni devono differire per una costante siccome le abbiamo costruite apposta in questo caso la costante è 5 anche in questo caso se facciamo la rappresentazione grafica otteniamo due parabole solo che la seconda parabola avrà il vertice spostato apparirà come la prima traslata verso l'alto di una quantità pari a 5 possiamo vedere la rappresentazione grafica delle due funzioni x al quadrato e x al quadrato più 5 x al quadrato ha il vertice nell'origine x al quadrato più 5 ha esattamente la stessa forma come parabola solo che il vertice è spostato verso l'alto di 5 e se andiamo a calcolare la derivata sappiamo che in questo caso si tratta di una funzione di primo grado c'è una retta scriviamo h' di x otteniamo una retta passante per l'origine se facciamo p' di x che è la seconda funzione si saurappone sulla stessa retta una retta di colore diverso che rappresenta la derivata della funzione traslata le due derivate in questo caso sono identiche a conferma che derivate identiche hanno per corrispondenti funzioni che differiscono per una costante tra le applicazioni del teorema di Lagrange venne una importantissima che riguarda lo studio delle funzioni monotone cioè delle funzioni crescenti o decrescenti in particolare in un intervallo ricordiamo brevemente la definizione di funzione crescente in un intervallo diciamo che la funzione f di x è crescente nell'intervallo i se comunque si prendono due punti x1 e x2 nell'intervallo i con x1 minore di x2 risulta f di x1 minore di f di x2 se per caso invece abbiamo a che fare con la disuguaglianza invertita la funzione si dice decrescente quindi f di x è decrescente in i se comunque si prendono due punti x1 e x2 appartenenti all'intervallo i con x1 minore di x2 risulta f di x1 maggiore di f di x2 in sostanza se al crescere della variabile indipendente la funzione cresce allora la funzione si dice crescente se al crescere della variabile indipendente viceversa la funzione decresce la funzione si dice decrescente nell'intervallo nel caso in cui le disuguaglianze per i valori della funzione valgano in modo largo cioè considerando anche l'uguaglianza la funzione si dice rispettivamente debolmente crescente o debolmente decrescente ripresa questa definizione vediamo come legare il comportamento di una funzione monotona purché sia continua e derivabile al segno della derivata vale infatti il seguente teorema sia f di x una funzione continua in un intervallo i derivabile nei punti interni di i allora se la funzione ha derivata positiva in ogni punto interno di i la funzione risulta crescente nell'intervallo i se viceversa la derivata della funzione risulta sempre negativa nei punti interni di i allora la funzione risulta decrescente in i la dimostrazione di questo teorema fa ancora una volta uso del teorema di Lagrange supponiamo per il momento che sia la derivata positiva in questo caso presi due punti x1 e x2 appartenenti ad i visto che la funzione risulta continua in i e derivabile nei suoi punti interni nell'intervallo x1 x2 è possibile applicare il teorema di Lagrange perché le ipotesi ci sono tutte il che significa che esiste c appartenente all'intervallo aperto x1 x2 tale che risulta f' di c uguale a f di x2 meno f di x1 fratto x2 meno i x1 ho dato direttamente per scontato che risulti x1 minore di x2 visto che dobbiamo dimostrare che al crescere della variabile indipendente cresce anche la funzione dal momento che la derivata risulta positiva in tutti i punti interni di in particolare sarà positiva anche nel punto c di conseguenza avendo f' di c maggiore di 0 risulta maggiore di 0 anche il rapporto f di x2 meno f di x1 fratto x2 meno x1 quindi risulta f' primo f di x2 meno f di x1 fratto x2 meno x1 maggiore di 0 dal momento che abbiamo supposto che x2 sia maggiore di x1 il denominatore di questo rapporto è certamente positivo ma allora deve essere positivo anche il numeratore e quindi si ha f di x2 meno f di x1 maggiore di 0 e di conseguenza portando il termine meno f di x1 al secondo membro abbiamo f di x2 maggiore di f di x1 cioè se si ha la disuguaglianza x2 maggiore di x1 come conseguenza abbiamo la stessa disuguaglianza per i corrispondenti valori della funzione e questo ci permette di dire che la funzione è crescente è chiaro che dimostrare il teorema nel caso in cui si abbia la derivata negativa richiede un procedimento assolutamente identico semplicemente la derivata negativa porta a un valore negativo per questo rapporto e di conseguenza ha un valore negativo per il numeratore visto che il denominatore è maggiore di 0 e quindi si ottiene la stessa disuguaglianza invertita però quindi a questo punto siamo sicuri che quando una funzione ha derivata con un segno ben definito positiva o negativa abbiamo anche un comportamento ben definito dal punto di vista della monotonia della funzione cioè il fatto che la funzione sia crescente o decrescente vediamo un esempio pratico consideriamo ancora una volta una funzione già trattata in altri casi la funzione f di x uguale x al quadrato e questa funzione è sicuramente continua e derivabile in r ora consideriamo separatamente gli intervalli i1 pari a meno infinito 0 che è un intervallo semi chiuso chiuso a destra aperto a sinistra e l'intervallo i2 0 più infinito andiamo a calcolare la derivata della funzione risulta f' di x uguale 2x è evidente che nel primo intervallo cioè nell'intervallo meno infinito 0 la derivata assume valori negativi perché la derivata è proporzionale a x quindi se x è negativo è negativa anche la derivata invece nell'intervallo 0 più infinito la derivata assume soltanto valori positivi il fatto che la derivata sia nulla in corrispondenza di un estremo non è importante ricordiamoci che il teorema non ha neanche la richiesta che ci sia la derivabilità nel punto estremo nei punti interni la derivata è positiva qui e nei punti interni la derivata è negativa qui in base alla tesi del teorema possiamo dire che la funzione è crescente nel secondo intervallo laddove la derivata è positiva e decrescente nel primo intervallo laddove la derivata è negativa e infatti la rappresentazione grafica di questa funzione ce l'abbiamo in questo grafico è una parabola con vertice corrispondente con l'origine come vediamo nell'intervallo fra meno infinito e zero il grafico della funzione ci dice chiaramente che la funzione decresce al crescere la variabile indipendente i valori della funzione decrescono il grafico si presenta in discesa mentre tra zero e più infinito i valori della funzione crescono al crescere della variabile indipendente il grafico si mostra in salita quando diciamo in modo molto intuitivo anche se non matematicamente rigoroso che il grafico è in discesa o in salita facciamo riferimento alle possibili tangenti al grafico della funzione in ogni punto la tangente è una retta che ha un chiaro coefficiente angolare positivo o negativo e che corrisponde in una discesa o una salita andando da sinistra a destra un altro esempio meno banale potrebbe essere la seguente funzione f di x uguale x fratto 1 più x al quadrato si tratta di una funzione certamente continua non ha punti di discontinuità il denominatore non si annulla mai è una funzione derivabile proviamo a calcolare la derivata f primo di x uguale il denominatore si mette al quadrato visto che si tratta della derivata di un rapporto poi dobbiamo calcolare la derivata del numeratore per la non derivata del denominatore quindi 1 per 1 più x al quadrato meno la non derivata del numeratore cioè x per la derivata del denominatore la derivata del denominatore è pari a 2x infatti x al quadrato per derivata 2x e la costante è a derivata nulla procediamo con il completamento dei calcoli il denominatore come vediamo non causa problemi di annullamento quindi la funzione risulta sempre derivabile al numeratore abbiamo 1 più x al quadrato meno 2x al quadrato cioè 1 meno x al quadrato fratto 1 più x al quadrato al quadrato dovremmo studiare il segno di questa derivata per capire in quali intervalli la funzione è crescente e in quali intervalli la funzione è decrescente poiché il denominatore è sempre certamente positivo non si annulla mai il segno della derivata f primo di x maggiore o uguale a 0 può essere studiato studiando semplicemente il numeratore 1 meno x al quadrato è maggiore o uguale a 0 si tratta di una disequazione di secondo grado molto facile da risolvere questo si scompone in 1 meno x per 1 più x maggiore o uguale a 0 e questa è soddisfatta per valori interni all'intervallo delle soluzioni dell'equazione associata che sono meno 1 e 1 rispettivamente cioè questa è vera per meno 1 minore o uguale a x minore o uguale a 1 in questo intervallo la funzione ha derivata positiva o nulla si annulla soltanto nei punti meno 1 e 1 il che significa che nell'intervallo tra meno 1 e 1 la funzione è certamente crescente viceversa negli intervalli tra meno infinito e meno 1 e 1 più infinito la derivata risulta negativa e di conseguenza in questi due intervalli la funzione risulta essere decrescente per chiarire meglio questo concetto rappresentiamo i grafici della funzione e della sua derivata mediante geogebra inseriamo la funzione x fratto x al quadrato più 1 come vediamo questa funzione presenta degli intervalli in cui decresce arriviamo in corrispondenza di meno 1 qui c'è un minimo relativo poi la funzione torna a crescere c'è un massimo relativo in corrispondenza del valore 1 e poi la funzione decresce come confermato dal segno della derivata f' ecco questa in arancione è la derivata che risulta essere negativa prima di meno 1 poi positiva tra meno 1 e 1 e poi di nuovo negativa da 1 in poi e come vediamo il segno della derivata è associato al fatto che la funzione che è quella in blu risulti crescente o decrescente grazie a tutti